Gli ultraottantenni vengono o segnalati dal medico curante, contattati dal medico curante e quindi avviene la prenotazione tramite il proprio medico curante, oppure si segnalano al numero previsto dall'ASP per gli ultraottantenni. Una volta prenotati vengono richiamati dall'ASP e gli viene data la prenotazione con il giorno e l'ora in cui recarsi. Dalla prenotazione in media passano una decina di giorni, ovviamente questo qua è un tempo variabile perché dipende anche dalla disponibilità dei vaccini. In ogni caso la persona viene ricontattata, gli viene dato il centro vaccinale in cui si deve recare con l'orario. Se le persone si recano nel punto vaccinale all'orario prestabilito vengono vaccinati pressoché immediatamente. Poi hanno un'attesa di 15 minuti in cui bisogna verificare se non si verifica qualche controindicazione del vaccino. Dopo i 15 minuti può tornare tranquillamente a casa.